Un incontro segnato dalla sofferenza condivisa per le guerre che infiammano diverse regioni del Medio Oriente e per le violenze contro i cristiani e contro le altre minoranze religiose, specialmente in Iraq e in Siria. L'ho detto Papa Francesco nel suo discorso a Mardinca IV, cattolicos patriarca della Chiesa Sira d'Oriente, sottolineando che non vi sono ragioni religiose, politiche, economiche che possano giustificare ciò che sta accadendo a centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini innocenti. Il Papa ha parlato di sofferenza che va al di là delle distinzioni di rito o confessione perché in ogni persona c'è il corpo di Cristo che ancora oggi viene ferito, colpito, umiliato. L'incontro è un ulteriore passo avanti nel cammino di comunione che procede dopo le amare comprensioni del passato. Papa Francesco ricorda anche il lavoro della Commissione Mista per il dialogo teologico tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Sira dell'Oriente e auspica che si avvicini il giorno in cui celebrare allo stesso altare il sacrificio di lode che ci renderà una sola cosa in Cristo. Ciò che ci unisce a concluso è già molto di più di ciò che ci divide.